Questa è la seconda parte dedicata alla preparazione di una scheda, una form.net, in grado di gestire la raccolta e la registrazione di un nuovo record in una tabella che però è priva, e per questo quindi l'operazione è più semplice, di chiavi esterne. Nella prima parte ci eravamo limitati ad impostare la parte di presentazione della form e a preparare tutti i componenti. E adesso la parte più interessante che è anche la conclusiva della lezione, il codice al clic sul bottone conferma che dovrà effettivamente fare che cosa? Stabilire la connessione col database, aprirla, preparare un oggetto comando SQL impostando nel suo testo del comando il giusto insert into. Insert into dovrà essere composto prendendo i valori da indicare dopo values, dalle caselle nominazione, sigla e popolazione, e poi eseguire il comando. Finito. Andiamo di doppio clic sul bottone e siamo nell'editor. Dobbiamo aggiungere qua lo solito using mysql.data.mysqlclient Si comincia con la creazione dell'oggetto connessione, mysql.connection.con, uguale una nuova mysql.connection, la stringa di connessione che non si pretende, si ricordi a memoria, basta scrivere una volta, poi andare di copia e incolla, oppure metterla in una stringa come risorsa dell'applicazione, insomma, adesso noi stiamo sul semplice. Il server che è il localhost, il nome del database, ricambiamo auto, più, andiamo a capo, user id, username, io ho il classico root e password nulla, la pegrizia impera. Poi, stabiliamo la connessione, cioè come si dice, la apriamo con open, potrebbe andare male, ma noi faremo finta invece che vada tutto bene, per rendere di base la soluzione. Possiamo a questo punto creare un oggetto comando sql, cioè un mysql command, comando sql, un nuovo comando sql, mysql command, il testo del comando lo lascio al momento indefinito, quindi metto la stringa nulla, e invece dico fin da subito che la connessione da usare per inviare il comando e ricevere eventuali risultati è con aperta appena prima. Ora con comodo andiamo a dare il giusto valore come comando sql alla proprietà command text del comando. Spezzeremo su più righe per rendere più semplice e evidente la struttura del comando. Consiglio, soprattutto agli inizi e soprattutto quando si sta facendo una verifica. Mettetevi davanti agli occhi un modellino del tipo di comando che state per impostare. Insert into nazioni, poi la sintassi più completa prevedrebbe di specificare l'elenco completo dei campi, e qui avremo due possibilità, mettere id, nazione, poi la nazione, la sigla e infine la popolazione. Non ci vanno gli apici, eh? A delimitare gli identificatori con i nomi dei campi. E vado a capo, values, spazio, e poi tra parentesi l'elenco dei valori per questi campi. Attenzione, però, l'edinazione è in autoincremento e con mysql si può comunque indicare, mentre per altri database, managing system, magari non bisogna indicarlo nel comando. Dovete andare a verificare, insomma. Però indicare un valore vuoto, perché ci pensa poi lui ad assegnarlo. Poi il nome della nazione, la sigla e la popolazione. Questo verrebbe accettato, però ad essere pignoli è più corretto mettere invece di stringa nulla, proprio il valore speciale nulla. Così è perfetto. Prima variante che inizia a semplificare un pochetto. Si può anche non specificare l'id qui e anche qui il valore. Sempre perché è in autoincremento, ci pensa il sistema in automatico. Ma quando si vanno a specificare tutti i campi, come al solito poi potendo indicare o no con mysql l'id, si può evitare di mettere qui l'elenco. E questa è la forma più snella per la tabella delle nazioni. Adesso addirittura possiamo mettere tutto sulla stessa riga. Siccome i campi sono specificati tutti, con l'eccezione della chiave primaria, verranno assegnati in quest'ordine ai campi che vengono trovati indicati nella struttura di quella tabella. Automaticamente Inghilterra viene associato con il nome della nazione, il secondo valore con la sigla e il terzo valore numerico con la popolazione. Attenzione, c'è un rischio in questo vantaggio. Se un domani si va a modificare la struttura e si spostano e si inseriscono dei campi, poi l'abbinamento salta. Per cui, non volete correre rischi, specificate sempre tutto. Bene, ora abbiamo davanti il nostro modello da seguire. E' questo. Le parti che sono fisse le riportiamo noi direttamente su forma di stringa. Insert intunazioni, anche quello che segue è fisso. Nazione, virgola, sigla, virgola, popolazione. Poi mi fermo, vado a capo e aggiungiamo il resto. Il che corrisponde a mettere ancora fisso values e la parentesi e poi, personalmente, preferisco fermarmi qui. Qualcuno avrebbe forse indicato anche l'apice del primo campo. Io no, io preferisco poi distribuire su ogni riga un campo diverso. Quindi metto un più, vado a capo. Così inizio sempre allo stesso modo, con virgolette. L'apice, se è un campo stringa o un campo data, mi raccomando, per i campi numerici invece no, l'apice poi devo chiudere subito perché devo prendere il valore dalla casella di testo, dalla form, e inserirlo qui più. Qual è il campo della form che contiene il nome della nazione? Andiamo a vedere. Inserimento nazioni è questo nome nazione.txt. Quindi, torniamo codice, nome, nazione.txt, occhio però, punto text, perché dobbiamo estrarne il contenuto con la sua proprietà text, che è già una stringa, quindi va bene, lo accetta, più, andiamo a guardare il modellino, values, apice, e c'è il nome della nazione, e c'è questo apice e la virgola, quindi l'apice e la virgola, chiudo, più, e vado a capo, così, ripeto, un campo, una riga. Poi, per i campi di tipo stringa o data, possiamo fare copia e incolla, basta cambiare qui, non il nome della nazione, ma la sigla, benissimo. Più, l'ultimo campo, che però è numerico, quindi il più, popolazione m, era un masched.txt, text, ricordate, text box, txt.txt, e sono sicuro che è un numero, perché, lo vediamo adesso nella prova, ciò che non è cifra numerica, verrebbe rifiutato in automatico dalla mascherina, corrispondente ai famosi 19 di prima. Cosa manca? Attenzione, manca, guardiamo il nostro modello, la parentesi. Eccola qui. Bene. Adesso, trucchettino. Ci metteremo un breakpoint, prima di eseguire il comando, così si può andare a controllare se la stringa ha il formato che dovrebbe avere, e comunque per eseguirlo, è un execute, vi ricordo, execute non query, perché tutti i comandi di manipolazione, cioè l'insert, int, l'update e il delete, non sono delle interrogazioni, non sono delle query, e allora esiste il metodo execute non query, e poi si chiude la connessione. In un programma professionale dovremmo andare a controllare l'esito e tante altre cosette, però qui ce le risparmiamo. Dicevo, mettiamoci un breakpoint, poi andiamo in esecuzione, richiamiamo l'inserimento, ingrandimento, qua, Australia, sigla, house, popolazione, boh, 23 milioni, conferma, e siamo qui, andiamo a curiosare il command text, spostiamoci con calma sulla lente di ingrandimento, clic, e questo è il comando, e ci accorgiamo, ad esempio, che abbiamo dimenticato qua una parentesi, è più facile, no? Poi, nel dubbio, se non si riuscisse a capire perché non funziona, si può fare un bel copy e incolla, e l'incolla ve lo fareste qui, nel workbench, e i messaggi d'errore sarebbero più completi, più comprensibili, non sempre, ma spesso è così. Noi però abbiamo già anticipato un possibile problema, quindi stoppiamo l'esecuzione, e andiamo qui a mettere la parentesi tonda. e poi ci riproviamo, confermiamo, insert intonazione, l'elenco dei campi, separati da virgole, senza apici, values, l'elenco dei valori, gli apici sono tutti, secondo me, ci dovremmo essere, per cui, speranzoso, do l'ok, continuo, la connessione, è questo open, parlando mi è sfuggito, invece di fare close, ho messo ancora open, interrompi, però il record dovrebbe averlo inserito, andiamo a controllare, eccola qui, la nostra Australia, poi vado a rimediare, a questi errori, da presa diretta, close, e questo chiude la lezione, alla prossima.